Vi erano mancati gli abiti di Altair, dite la verità, dite la verità. Assassin's Creed Brotherhood, andiamo avanti ragazzi, gli ho messo gli abiti di Altair in attesa ovviamente di sbloccare l'armatura di Bruto. Vediamo che succede, documenti preziosi. Cosa? E' accisi Claudia. Non solo il coltello. No. Alla buon'ora, dico io. Fine di un'altra sequenza. La numero 5, quindi andiamo nella numero 6 per forza ragazzi. Sequenza numero 6, appunto, il barone di Valois. Il nome è già sentito, insomma. Quanto si chiama un personaggio storico, se non vado errato, eh. Non mi voglio sbagliare. Però credo proprio sia un personaggio storico. Nuovi contratti sbloccati, perfetto. Dov'è la missione? Sì, vabbè. Agenti Templari. Ok. Però io faccio così. Vado all'isola Tiberina e sbuco qua. Perché sennò, ragazzi, ci vuole una vita e mezzo. Nuovo oggetto sbloccato presso i mercanti d'arte. Mmm, di cosa si tratta? E' qua il mercante d'arte. Anzi, no, questo è Fabro. Scherzo. Si va bene, Ezio. Entriamo nel covo. Perché così almeno, poi, vado là senza troppe rotture di palle. Il reingresso delle gallerie dovrebbe essere in fondo. Se no, vado errato. Sì, vado errato. Perfetto. Di qua. Di qua. Sì. In fondo, ma all'altro fondo. No, non c'ho là. Va bene, Viminale. Va bene. Eviminale sia. Andiamo dove? Come avete fatto sbloccare sta parte qua, brutti bastardi, eh? Datemi un cavallo, prima di tutto. Mi volete dire che non ho sbloccato... Sorry. L'entrata alle termine di Diocleziano? Ma per forza l'ho sbloccata, raga. Cioè, se no non si spiega. Cioè, o è stata presa d'assalto, o non si spiega. Comunque, vabbè. Ezio. E' anche a te. Ezio! Aspettavo mia moglie. C'è perché non mi stupisce. Quei bastardi di francesi ci tengono sotto pressione. Parlami del loro generale, il barone di Valois. Cesare ha convinto Re Luigi ad affidargli un intero esercito per sconfiggermi. La cosa mi lucina. Dove posso trovarlo? È solo questione di tempo prima che tagli la gola a quel Valois. Le stiamo ricacciando. Sembrano avvicinarsi, invece. Ma la situazione è sotto controllo. Sbarrate le porte! Bene. Allora forse puoi darmi una mano. Ed è guerra. Difensore, non subire danni. No. Non subire danni. No. Sì, vabbè, raga. Ma quanti sono? Ezio! Chiudi le porte! Via. Partiamo da questa qua che magari è un pochino più tranquilla. Vengono dall'altra parte! Fuori. Fuori. Perché gli assassini non sono disponibili, cazzo? Ok, entrata chiusa. Perfetto. L'altra entrata! Fuori anche te. Bravo, così Ezio. Via con gli assassini. Ma perché è mollato l'arma? Perché? Perché è mollato l'arma, Ezio? Ma non capisco perché molla sempre l'arma. Guidiamo le porte. Veloce. Fuori, bene. State lì, state lì, state lì, state lì, state lì. Oh, alleluia. La mia arma. Non ti sa dove sia. Ok. Dal Vienno. Ed bu prea a vous rendre? Perché non venite qui a dirmelo? Dovreste imparare il francese. Mascherereste la vostra barbara a mancanza di tatto. Potreste insegnarmelo voi. E io vi insegnerei a combattere. Visto che sembrate saperne assai poco. No. Mi fa morire. Vorrei la vostra resa incondizionata entro l'alba. Venite qui, Bianca vuole sussurrarvela. Personalmente. Personalmente. Un'altra signora non sarebbe d'accordo. No, la moglie. Li ucciderà tutti. Io ti ammazzo, cane di un francese. Avevano capito tutto. Per il bene di vostra moglie. Conoscete le condizioni? Vi attendo al mio campo all'alba, disarmato. Che vuol dire disarmato? Detti le regole tu? Il francese. Presto diventerà la lingua ufficiale in Italia. Certo. Segui Bartolomeo senza spada? Senza la mia spadona, va bene. Allora, seguiamolo. Siamo rimasti solo col pugnale. Non si sa perché. Però Bartolomeo è duro a morire perché li va a prendere loro. Ah, si può passare così. Benissimo. Cazzo, però c'è una bella fortezza. Rapisci la moglie di un uomo che vuoi nasconderti in una fortezza? Non hai niente fra le gambe. No. Tranne un buco così profondo che arriva fino allo stramaledetto inferno! Come puoi aiutarla da morto? Raduniamoci e apriamoci un barco all'ingresso come facciamo all'arsenale. Ci sono più francesi del... Beh, ricordi. ...e le strade di Parigi. Allora scaleremo i bastioni. È impossibile scalarli. La mia fantasilea saprebbe cosa fare. Forse questa è la fine. All'alba porterò i miei duni a quel codardo. Speriamo solo che le risparmi la vita. Ma perché non ci ho pensato prima? E cosa ho detto? Richiama i tuoi uomini negli alloggi. Vi spiegherò tutto lì. Speriamo che sia una buona idea. Ti ritiriamo! Per ora. 2200 fiorini. E non... Anzi, non subito anni. Difensore è andata.